Eccoci nuovamente a UrbanTube, la rubrica che si occupa di video virali all'interno di Urban Week ma non solo di video virali Salve a tutti, io sono VJ Car, sì, sempre io, con la V e non con la D La notizia di oggi è davvero sconcertante Elvis, niente poco di meno che il re del rock'n'roll, è vivo, è vegeto Ma che cosa si è preso VJ Car? Beh, non vi sto mentendo, o perlomeno non vi sto dicendo tutta la verità Nel video che andremo a vedere oggi capirete il perché Era il 1977 ed Elvis Presley, il re del rock'n'roll, ci lasciava Ma un mese fa, nel dicembre del 2013, la maggior rete televisiva canadese ci ha dato questa fantastica notizia Andiamo a vedere quello di cui sto parlando So blue, just takin' about you Decorations of red on a green Christmas tree Wow! Sembra che The King si sia reincarnato, Elvis Presley si sia rinato nelle vesti e nei panni di questo ragazzino, David Timbalt. La sua voce è praticamente identica a quella di Elvis Presley, da come abbiamo potuto sentire e vedere. Hanno anche cercato di confrontarle mettendole l'una sopra l'altra. Beh, anche per oggi comunque è tutto, UrbanTube finisce qui. Sapete che è possibile rivedere chiaramente i nostri video nella nostra fanpage Facebook Urban Week Redazione, ma che potete cercarli normalmente su YouTube, Vimeo o comunque negli altri social network di video streaming. E rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana. Anche per oggi è tutto, alla prossima!